buonasera amici si lavora il campo si lavora il campo dell'orto qui dal vicino di casa renzo gentili dopo ci somenta un po di tutto però deve recintare perché sennò i cinghiali istrici mangia tutto quanto qui se ci mette le fave poi tienila che se trova il duro scappa via boh fino ai piedi dove stai i piedi tuoi lì un'altra striscia e poi fino a qua fino a qui giù